Se vuoi fare una cosa scalabile Pensa a un prodotto Definisci come si deve essere venduto A chi Come deve essere fatto Stabilisci i pitch Il messaggio Poi prendi tre stagisti E li metti a vendere Se loro vendono Tu hai costruito il prodotto della vita Perché? Perché sai che aggiungendo 20 persone Quella roba li verrà venduta Se tu founder la vendi Qualsiasi sia la tua revenue Tanto non sei scalabile Perché tu venderai sempre più degli altri Io sono Luca Io sono Elio Io sono Paolo E questo È il Marketers Podcast E con noi oggi c'è Davide Dattoli Benvenuto Davide Grazie di essere con noi Grazie per avermi invitato È un piacere averti qua E per chi non conoscesse Davide Davide è fondatore e presidente esecutivo di Talent Garden Ho scoperto ora che è la più grande digital academy d'Europa Gli ho chiesto come definire Talent Garden Perché per me è l'azienda con cui ha raccolto 60 milioni Ogni volta che io ho questo numero dico Cazzo 60 milioni Cioè mi colpisce sempre tantissimo Vivile dall'altra cosa Che sono 60 milioni di debiti Di gente che ne vuole almeno tre volte Quelli che lo danno Ottimo E a che punto siete su questa strada Guarda come cambia Se una turna E continua Come cambia la percezione La percezione è diversa Un reframing istantaneo Io e te e Davide abbiamo chiacchierato al Marketers World E vi lascerò in descrizione Il video della chiacchierata Che faremo uscire Così che tutti possano vederla E oggi invece ci concentriamo Su degli aspetti un po' diversi Rispetto a quello che abbiamo parlato al Marketers World E io partirai da Presidente esecutivo Cosa fa un presidente esecutivo? Più che altro Perché presidente esecutivo? Che cosa vuol dire davvero? Ma io ho fondato l'azienda 12 anni fa E ho fatto per 10 anni L'amministratore delegato E ho cercato di capire Di costruire l'azienda Di farla crescere Di sviluppare A un certo punto Noi eravamo quasi 150 persone Ho detto Ma serve una persona Che è più brava di me A fare la fase 2 Dell'azienda La crescita La scalabilità Perché ognuno di noi È bravo a fare cose diverse Chi è bravo tra 0 e 1 Chi è bravo tra 1 e 10 Chi è bravo tra 10 e 100 Io probabilmente Sulla prima fase Dove performo meglio La seconda vada abbastanza La terza molto di meno E quindi ha detto Proviamo a portare a bordo Un amministratore delegato Che ci possa aiutare Irene A fare la crescita successiva E che cosa faccio quindi oggi? Che cosa vuol dire presidente esecutivo? Circo un termine da inventarmi Per quello che farò da oggi Vuol dire pensare a due cose Il primo è Che cosa sarà l'azienda tra tre anni Ok Quindi non occuparsi tanto del quarter Non occuparsi tanto di cosa succede a breve Ma cercare di costruire Di sviluppare tutto ciò che è a medio e lungo Ciò che ci permette di fare scala Di costruire Quella che è la nostra visione Di raggiungerla E quindi cerco di lavorare Tutto ciò che è straordinario Dalla banale fundraising Che per una società in crescita Purtroppo rimane un'attività A tutta la parte di acquisizioni Di M&A Ne abbiamo fatto due o tre acquisizioni Nella nostra storia Ne abbiamo altre in questo momento in cantiere Ma anche tutti i progetti straordinari Che continuiamo a costruire Per che diventino alleanze In una logica di crescita Abbiamo annunciato qualche mese fa Quella con The Social Hub Che è una delle community Più fighe nel mondo del co-living Un'altra con il gruppo G Di Repubblica La Stampa Per portare sui media Anche più tradizionali Quello che facciamo C'è una serie di attività Che ci permettono Di crescere e di sviluppare E dall'altra Tutta la parte di sviluppo business Che è una parte importante di TAG Soprattutto col mondo corporate E com'è cambiata la tua quotidianità Passando da amministratore delegato Quindi essere più dentro al business A occuparti di questo sviluppo futuro Il sogno Ok Quando ho fatto questo passaggio Ho detto bellissimo È fatta Alla grande C'è una persona che segue l'azienda Io posso veramente La mattina Prendermi due ore Per leggere Fare quella cosa in più Continuo a lavorare come prima Quindi di sicuro Ho sbagliato qualche passaggio Questo Diciamo Devo dirmelo Cambia Cambia Che cerchi di toglierti Dall'operatività quotidiana Dalla gestione delle persone Non ho più neanche un riporto Ma cerchi di Lavorare su tutto ciò Che è aiutare le persone A raggiungere il goal dell'azienda E fare la differenza Quindi sto nei campus Nei nostri diversi spazi Con diversi team Le persone del team Ogni giorno Incontro gli studenti Incontro i clienti E cerco di facilitare Il più possibile Queste connessioni E dall'altra Faccio tantissima parte Di sviluppo business Sia logica di sviluppo business Che logica diciamo Più straordinaria Come dicevo prima E hai molto Colloquio Con chi è ora L'amministratore delegato? Diciamo Più volte a settimana O quasi quotidiano Poi dipende dai periodi Dipende dai progetti speciali Che abbiamo in quel momento Dalle diverse attività aperte Chiaramente è una persona Con cui devi condividere molto Con cui devi costruire insieme Con cui devi essere molto bravo A dividerti Diciamo i perimetri E sono sincero È molto difficile Perché poi è una persona Che entra non al primo giorno Ma una persona Che entra dieci anni dopo E con il quale Lavori ogni giorno Però diciamo Credo che sia Un passaggio fondamentale Di quasi tutti gli imprenditori Perché? Perché Magari per te stesso Vorresti ancora essere In prima linea Però non è detto Che tu sia la persona Migliore Per fare quello sviluppo Per aiutare le persone A svilupparsi Nel giusto modo E quindi a un certo punto Bisogna essere bravi A capire dove io faccio La differenza La faccio in tutto O la faccio in poche cose Ecco in quelle poche cose Devo mettermi ci al massimo E quindi è fondamentale Focalizzarsi E fare solo quelle Non le altre Hai detto Definire i perimetri Perché c'è un rischio Di sovrapposizione Cioè sei tu Che tendi a A ritornare Diciamo a quello Che era il tuo ruolo O cosa? Assolutamente sì Sei tu che ogni tanto Avendo gestito una cosa Per dieci anni Dici aspetta che la gestisco Eh no? O ci sono le persone Che vengono a chiedertelo Ci sono le diverse attività E lì la sfida La difficoltà È provare a dire Invece no Mi tiro indietro Non entro In tutto ciò Che è La macchina operativa Dell'azienda Ma cerco di fare La differenza Affiancando le persone Nei momenti chiave Nei momenti in cui Serve fare quel passaggio In avanti Come potete capire È un rapporto Continuo e costanza Di bilanciamenti Che dipende dai periodi Dipende dalle diverse attività Dal business dell'azienda Che quindi devi costruire Ogni giorno Però credo che parta Dal famoso Peter Principle Dal capire i propri limiti Ok Questo penso che comunque Questa sfida Del capire i propri limiti E come non Dove non intervenire C'è un po' A ogni livello Cioè quando passi Da operativo A essere manager E capire quindi Quanto lascia L'operativo Quando sei l'imprenditore Dell'azienda E inizi a inserire Più linee sotto di te E hai quella voglia Di intervenire Continuamente Nelle linee sotto Ma no Forse è meglio Che lascio sbagliare Lascio guardare Guarda Secondo me Si crea In qualsiasi contesto Non è il presidente Esecutivo Messa delegata È davvero In qualsiasi ruolo Cioè in qualsiasi momento In cui tu lavori Con qualcun altro A qualsiasi sia Sul tuo stesso livello Sopra o sotto È sempre difficilissimo Perché? Perché devi essere Molto bravo A stimare la persona Intorno a te Molto bravo A definire Quali sono i tuoi perimetri A prescindere Da quale sia il suo ruolo E capire come insieme Non si fa uno più uno Fa due ma fa tre Quella cosa lì A qualsiasi livello È sempre difficile Ed è sempre un tema di Da una parte L'organizzazione Quindi quella deve funzionare Ci devono essere Delle basi chiare E definite Di come farla funzionare Dall'altra però È sempre un tema Anche di allineamento Tra le persone Ed è molto difficile Avere persone che collaborano Se poi c'è poca stima O se non si riesce A lavorare insieme Quindi quella cosa lì Nel momento in cui dici Divento manager O lavoro con qualcun altro Devi metterti A pensare Come lavorare con gli altri Perché è la cosa Più difficile al mondo Quindi è un lavoro Che fai prima Cioè poniamo un esempio Oggi ti rendi conto Che una cosa Viene fatta Peggio di come L'avresti fatta tu Classico scenario Appunto in qualsiasi ruolo Ci possiamo trovare In questa cosa Come la gestisci? Prima di tutto Devi capire Se è un tuo bias personale O meno Perché ognuno di noi Pensa di salvarla Sempre al meglio E non sempre È così Secondo Se anche È chiaro Che non si sia Stato gestito al meglio Devi capire Se È davvero importante Può fare la differenza Perché? Perché delle volte Fare sbagliare le persone È il modo Con cui tu hai imparato Cioè io mi rendo conto Che nei diversi ruoli Che ho avuto Nelle diverse epoche di tag Certo che io sapevo fare Magari in quel momento Delle cose Ma io sono partito A montare i tab In garden Sono fatto il primo corso In classe Cioè non le sapevi fare L'hai imparato Ecco devi dare l'opportunità Agli altri di imparare Anche delle volte Facendoli sbagliare Perché è più importante Che le persone diventino autonome Piuttosto che quella cosa Si è fatta bene Dipende Certo 5 milioni di euro Magari no Sì però è importante Perché poi se Mi rendo conto tante volte Che tante volte magari Vuoi intervenire Per dire No non farlo E poi dici No aspetta È meglio che lo faccia Perché Se io adesso intervengo E intervengo ogni volta Prima che lo faccia Ancennuto questa persona qua Continuerà a chiedermi L'approvazione E smetterà di fare queste cose Dicendo Tanto io che cazzo lavoro a fare Se poi Luca Prima che io ho finito Mi viene già a dire qualcosa Aspetto che mi dia qualcosa E poi ottimizzo dopo E questo diventa Un grosso problema Funziona Su un'azienda Di forse 7-10 persone Sopra le 10 persone Quella roba lì Non può funzionare Perché sennò c'è uno Che deve dire a tutti Cosa fare E comunque Il livello qualitativo Nel medio termine E nessuno crescerà mai Perché nessuno si prenderà mai La briga di migliorare Allora concentriamoci un attimo Mi piacerebbe parlare Un po' del ruolo Dell'amministratore delegato Forse perché è quello Che io sto studiando di più In questo periodo E c'è una letteratura Molto bassa Su questo Su questo tema E trovi poco Quello che è veramente Il ruolo dell'amministratore delegato Cosa deve fare L'amministratore delegato Quali sono le sue priorità E quant'altro Ovvio che poi Dipende da quanto è grande La tua azienda E quanto cresce Però magari pensiamo un attimo A un po' di fasi Di Talent Garden E a come è stato Il tuo ruolo Dell'amministratore delegato Cioè Cosa fa effettivamente Un amministratore delegato Cioè Su cosa mette È importante Che mette le mani A chi riporta Eccetera Ma il primo tema C'è un bellissimo libro Che vi consiglio Che si chiama The CEO Within Che ho letto Molto bello Librettino nero Piccolino Che più che un libro È un manuale Fatto benissimo È una delle cose Che ho fatto Credo è stato Rileggere almeno 15 volte E ti racconta davvero Da zero Quali sono le diverse fasi Siccome costruire Una azienda Ogni volta che lo rileggi Ti rendi conto Di quanto valore C'è in ogni singola Lui è un grande consulente Da Silicon Valley Che lavorava con I founder Ma dopo che avevano preso Già finanziamenti Da billion quasi Perché magari ogni volta Sei in un periodo diverso Stai affrontando sfide diverse Quindi Metti maggior attenzione A una parte Di quel libro O manuale Esatto Esatto Credo qualsiasi libro Tu legga Secondo il tuo stadio di vita Lo leggi in modo diverso Quel libro in particolare Che è così pratico Davvero Ti può dare tantissimo Ed è il libro Che a chiunque Vuole partire con impresa Consiglio O che voglia essere manager E per esempio Ho detto che ci sono Tante filosofie Del fare impresa E quindi del ruolo Del CEO Perché dipende Se sei un business Bootstrapped In cui parti da zero La costruisci nel tempo Se sei un business Che parte con 5 milioni di fondi Cioè Veramente cambia tanto Credo che però Ci sia sempre una fase 1 Che è super operativa E lì l'errore È trasformarla In una cosa super operativa La cosa più importante è Riuscire da subito E impostare la parte Più strategica Qual è la visione Vera dell'azienda Definirla al giorno 1 È fondamentale La visione La missione Sembra che sia un lavoro In cui perdi tempo Ma poi ti rendi conto Di quanto non la riesci più A fare dopo I valori Perché quelli ti guideranno Appena giungi un'altra persona O anche tra due founder A capire come farlo Quali sono i valori Con cui prenderemo le decisioni Con cui è E perdere tempo lì È fondamentale Perché ti aiuta a capire Poi cosa fare Definire bene Quali sono Gli obiettivi Che vi date A tre anni Oltre non serve a niente A un anno E a un mese Quindi cercare Di perdere tanto tempo In questa parte Di pianificazione È fondamentale Perché poi ti rende Molto più veloce Poi però Devi essere un CEO operativo Devi essere uno Che fa qualsiasi lavoro Se io penso a Talent Garden Ho fatto Qualsiasi possibile ruolo All'interno Dal andare a vedere un posto Montarci i tavoli Parlare con l'elettricista Parlare col professore Vendere agli studenti Cioè ogni singola cosa Che abbiamo fatto All'inizio la devi fare Perché? Perché Non hai nessuno Con cui farlo Magari sei in poche persone E ognuno deve fare Davvero tutto Poi piano piano La sfida È fare due cose Uno Portare a bordo Le persone giuste Quindi l'evoluzione Del ruolo D'amministrato legato Parte dal Evolvere il proprio ruolo Portando a bordo Persone Che diventa La cosa più importante In qualsiasi fase successiva Secondo Essere molto bravo A far sì Che quella strategia iniziale Si continui ad evolvere E questo è il passaggio Due Molto Molto importante E tre È portare risorse All'azienda Perché? Perché alla fine Tu devi mettere Gli altri Nelle condizioni Di far sì Che si raggiungano Gli obiettivi Che tu hai definito Ok E nella definizione Degli obiettivi Per esempio Parliamo di Talent Garden Ok Usavi qualche Metodologia Particolare Nell'organizzazione Nella definizione Di obiettivi O come ti muovevi Per capire Quali erano Gli obiettivi Effettivamente importanti Per te Come amministratore delegato Nel momento in cui L'amministratore delegato E poi anche a cascata Sulle persone sotto Ce ne sono tantissimi Gli OKR Sono i più diffusi Bisogna stare attenti A non perdere Troppo tempo Nelle metodologie Esatto Perché ogni volta Sento parlare di OKR Poi io penso La volta che io ho provato A mettermi Ad applicare gli OKR Ho un certo punto Ho detto Forse sto facendo Di più un esercizio Di stile Nel lavorare sugli OKR Che poi nell'andare A trarne un beneficio Allora Parto dal cosa Che io Ho gli OKR Anche su me stesso Ok Quindi Su la mia vita personale Quindi Ottimo Però se penso La quantità di aziende Che ha davvero implementato Bene gli OKR Pochissime Talent Guardian in primis Perché? Perché è un lavoro Difficilissimo Anche perché poi Siccome vai Sulle varie fasi Sulle varie parti dell'azienda Cioè non dipende più Solo da te Ma dipende anche Dalla capacità Che hanno le singole persone Di andare ad implementarli Però è un lavoro Che io continuo a pensare Di a un grandissimo valore Perché? Perché ti aiuta A fare cascading Delle decisioni Del snocciolare Gli obiettivi Perché tutti abbiamo Quando facciamo un'azienda Dire Arrivo a fare un milione Ok ma che cosa vuol dire Fare un milione? Cioè davvero Che cosa stiamo parlando? Com'è che lo faccio? E in qualche modo Secondo me Ci sono due tipi di imprenditori Quello che è super intuitivo Che si butta Io sono così Come faccio a fare un milione? Una bestia da coso Lasciami fuori Vendo Vedi che te lo porto a casa Il milione Vendo la non di un bus Non rinco Finché non l'ho fatto Che però L'atteggiamento è sbagliato Perché? Perché di media Ti porta molto vicino Magari ce la fai Un milione lo resisti Puoi arrivare a farne tre Non ho mai visto Un imprenditore Non riesci andare più oltre E allora devi andare Contro la tua natura E fare l'imprenditore strategico Io ho una moglie Imprenditrice Che invece ha Bellissimo background McKinsey Banca d'affari E noi siamo Diametralmente opposti Quando pensiamo a una cosa Perché? Perché lei tipo dice No ma io per fare un milione Devo capire Quali sono le logiche Che mi portano a farlo Quanto è il prezzo medio Quanto è il cliente medio Quanti clienti devo avere Che clienti posso trovare Io dico ma sì Ma è inutile perdere Tutto questo tempo A fare questa strategia Dall'altra ti rendi conto Quanto una buona fanificazione Ti risolve il problema Dall'altra devi evitare Il loop del Stai a pianificare il mondo Ogni tanto mi arrivano Gente che mi fa vedere Business plan Di 60 pagine Cosa hai fatto? Niente Niente Ho soltanto fatto il business plan E lo raggiungerò Possono susseguirsi Questi due tipi di imprenditore Nel senso Puoi essere Diciamo Fino ai 3 milioni Il primo tipo di imprenditore E poi switchare al secondo Difficile Ok Tu quando è che ti sei detto Ok devo cambiare? Guarda La nostra fortuna Perché io non sono partito Volendo farlo imprenditore Ok Io sono partito Volendo risolvere un problema E la mia fortuna È stata che a un certo punto Il nostro modello di crescita È stato il franchising E quindi il modello Per sua natura Predisponeva Il fatto del delegare Totalmente la cosa E questa cosa Mi ha aiutato tanto Perché io sarei stato uno Che faceva tutto sul campo Invece nel dover avere Dei franchisee Che in qualche modo Degli altri imprenditori Con il quale costruivamo Delle cose A un certo punto Devi definire E lavorare solo Sulle guideline Quindi mi ha portato A evolvermi E questa cosa È stata fondamentale Perché poi ci ha permesso Di costruire la scala dopo Perché già eravamo Nel mindset Del definire regole Per poi mettere le persone In le condizioni di lavorare È un'evoluzione continua È una tensione continua Tra queste destra e sinistra Questo fare E questo pianificare Che devi essere molto bravo A bilanciare Nei periodi Nei giorni Nelle diverse attività Avendo ben chiaro Dove vuoi arrivare Ma essendo poi Ultra focalizzato Nel breve Ok quindi avere sempre Il doppio Uno sguardo Di lungo periodo E uno di breve La difficoltà La difficoltà grande Almeno quella che riscontriamo Noi tante volte È essere nel breve Concentrati Cioè nel breve Concentrati Siamo molto bravi Tutti a farlo Secondo me Ma è nel fare Quelle azioni Che però poi ti portano Verso quell'obiettivo Nel lungo E non nel continuare A fare cose Che nel breve Magari vanno Ma che sai che però Non ti porteranno A quel lungo Difficilissimo Difficilissimo Sono d'accordo Anche perché Tu poi sei stimolato Dal dire Ok voglio raggiungere Un milione Vabbè sono a un terzo Manca poco Vabbè adesso trovo Un modo per farlo E lì è la cazzata Più grande Perché tu risolvi Il piccolo problema Può essere il milione Ma può essere Qualsiasi gol Che ti dai Trovi la scappatoia Una cosa bellissima Un libro americano Di un intervento Che avevo sentito A San Francisco In un evento Era di questo Che aveva costruito Tutta la sales force Di Google Di Slack Di varie aziende Diceva Il problema del founder È che il founder Prova a vendere Se vuoi fare Una cosa scalabile Pensa a un prodotto Definisci come si deve Essere venduto A chi Come deve essere fatto Stabilisci i pitch Il messaggio In co Poi prendi tre stegisti E li metti a vendere Se loro vendono Tu hai costruito Il prodotto della vita Perché? Perché sai Che aggiungendo 20 persone Quella roba Li verrà venduta Se tu founder La vendi Qualsiasi sia La tua revenue Tanto non sei scalabile Perché tu venderai Sempre più degli altri Non perché sei più bravo Perché hai l'energia La cosa L'hai pensata E questo è un cambio Di mindset totale Ed è però Cosa vuol dire Fare davvero Un'impresa scalabile E questo è il problema Più grande Anche se ci penso Molto in piccolo Tutti quelli Che fanno Le agenzie di marketing Cioè fai un'agenzia Di marketing E dici adesso Prendo persone Perché voglio scalare Ma alla fine Quando tu smetti Di essere te Che ti relazioni Col cliente Dici ma scusa Ma io voglio Che tu torni A relazionarti con me E questo è proprio quel senso Il founder Riesce a venderti Qualsiasi cosa Ma se metti Qualcun altro E il prodotto Non è così forte Il cliente dice No guarda Io non so Non faccio per te È un downgrade importante Cioè ok Cioè se succede Nell'esempio che stavi facendo Nell'agenzia di marketing Viene vissuta come un downgrade Certo E ora mi metti A parlare con quell'altra persona Perché io voglio parlare solo Ed esclusivamente Perché moltamente Il prodotto sotto Non è così forte appunto Come stavi dicendo Molto più Questo passaggio Oppure non viene trasmesso In maniera corretta Agli staggisti O chi per loro Può darsi Che il Però torna Non l'hai definito abbastanza Ok quindi Comunque È ovvio che il lavoro A monte è stato sbagliato Quindi Il torto Diciamo È sempre là Però può avere Molteplici facce Quindi Sviluppo prodotto Il must Cioè Soprattutto nelle prime fasi Immagino Ma anche poi andando avanti Il prodotto È il core Di questo tipo Che vuoi fare Il prodotto È il core Poi ogni organizzazione è diversa Ci sono aziende Secondo me Che sono basate sul prodotto Sono product driven Aziende che sono community driven Aziende che sono sales driven Io conosco aziende Che fanno Centinaia di milioni di fatturato Nei servizi Che non hanno un prodotto Ma hanno costruito Una cultura aziendale Talmente orientata alla vendita Che Tutti sono orientati a vendere Cosa Quello che passa Ma riescono a vendere E quindi tu devi davvero capire Che organizzazione vuoi essere Se è un'azienda Product driven Se è un'azienda sales driven Se è un'azienda community driven Se è un'azienda di che tipo È giusta una Giusta l'altra Certo Devi sapere dove sei In che tipologia Di business sei E secondo me Il 90% delle volte Il suo fondatore I suoi fondatori Non è che lo decidono Ma devono capire Chi sono loro Perché tanto poi Tu fai quello che sei Molto figo questo Che tu fai quello che sei Cioè E come dicevi prima Sei intuitivo Come imprenditore Non passerai a essere strategico Quindi trovi come farti aiutare Ma non passerai E quindi alla fine Il business rispecchia molto Quello che tu sei E quello che tu farai E tornando all'amministratore delegato Quali sono le persone chiave Con cui si relaziona Un'amministratore delegato Parliamo di Dei business Che non siamo più Nella fase iniziale Proprio Dove non fai nulla Ma dove inizia ad avere Una struttura E quindi dove tu non riporti più Alla terza linea Perché hai già Almeno più di due linee Guarda Dipende tantissimo Anche lì dal modello organizzativo Che costruisci Ci sono modelli Molto verticistici Quindi c'è un amministratore delegato Che magari ha Uno o due riporti Ci sono Che l'app in Italia Bellissime Che hanno Uno o due riporti All'interno E che magari sono 500 persone E ce ne sono altre Invece che sono Totalmente flat organization E che quindi dicono Ma guarda Io posso avere anche 30, 40, 50 riporti E lì ci sono Filosofie diversissime Diciamo i libri di management Di leadership Dicono che un amministratore delegato O qualsiasi leader Non può avere più di 7 riporti Questa è la cosa La regoletta La regoletta Aurea del management Dall'altra Jeff Bezos Arrivava a averne 30 Come alcuni Primo di tra tutti Diciamo Un'azienda come Zuckerberg Lui a un certo punto Disse Io voglio avere Il prodotto E tutto il resto Lo gestisce un'altra persona Quindi Estremi Estremi Totalmente diversi Dipende molto Da come costruisci La cultura Quindi Credo che la cosa Fondamentale Sia avere Le persone Che possono Fare la differenza Nel business Cioè Quali sono i ruoli Che cambiano Da business A business Che possono Fare la differenza In un'azienda Di servizi In un'agenzia Alla fine Tu sei orientato Al cliente Quindi chi è Che ti deve rispondere I capi Delle unit Che Le persone Che vendono E magari Qualcuno di finance Non avrebbe senso Altro Magari dei people Ma nulla di più Se invece Fai un'azienda Di prodotto Devi avere Un capo vendita Ma poi Devi avere Il capo del prodotto Il capo degli analytics Quindi sempre Qualcosa di staff Normalmente sono Finance HR Ma poi è chiave Capire chi sono Le persone Che nel tuo business E nel tuo prodotto Fanno la differenza Perché su quello Organizzi Diciamo L'organizzazione stessa Ti rubo Solo qualche secondo Per parlarti Del marketer's world Infatti Come hai sentito All'inizio di questa puntata Davide è stato Nostro ospite Tra l'altro La sua intervista Con Luca Cresi Ferrari È stato uno Degli interventi Che più le persone Che erano presenti Hanno apprezzato Se non conosci ancora Il marketer's world Devi assolutamente Venire al prossimo Che sarà A ottobre In descrizione Troverai un link Alla pagina Di iscrizione Del marketer's world Al suo interno Trovi tutte le informazioni Sulla più grande Festa dei marketer Che esiste in Italia Quindi Io ti lascio Al proseguimento Di questa puntata Del podcast Però mi raccomando Alla fine Vai a leggere Tutte le informazioni Sul marketer's world Link In descrizione Ciao Il marketing Come lo vedi Come la figura Che si occupa Del marketing In un'agenzia Per esempio In questi due esempi In un'agenzia È quasi inutile Perché prevalentemente C'è il sales Io sempre conosco Aziende Di servizi Di agenzie Un po' più strutturate Anco Che non hanno avuto Il marketing Fino alle 1500 persone Dall'altra E poi l'hanno avuto Per velleità Perché a quel punto Non serviva Dall'altra invece Ti servono Ci sono aziende Dove se non hai Il marketing Non hai nessuna parte In Talent Garden Il marketing È uno degli elementi Più chiave Perché? Perché nell'acquisition Degli studenti Nella formazione Il marketing È il prodotto Certo E tu In Talent Garden Quindi come eri organizzato A livello di persona A cui andavi a riportare? Guarda Dipende tantissimo Dalle fasi E l'organizzazione È evoluta tanto L'organizzazione di Talent Garden Credo ogni Diciamo Minimo 6 Massimo 12 Già al minimo Forse anche 3 E questa è una cosa In cui non esiste L'organizzazione giusta Esiste Un'organizzazione diversa Il primo tema È quanto è centralizzato E quanto è localizzato Quindi Quanto è Se hai più paesi E tutto sui paesi Con dei country manager Totalmente indipendenti E quanto invece È un team centrale Che decide tutto E country manager Soltanto mettono a terra Ma così anche se È una zona di prodotto Mono paese Cioè quanto È centralizzata Le funzioni Sul marketing Che decide tutto Quanto invece Poi ogni singola Business unit Fa il suo Quindi l'organizzazione È una cosa In cui non esiste Quella giusta E forse la cosa giusta Me lo disse una volta L'ex direttore generale Di Unicredit Che è un nostro socio Roberto Nicastro Mi disse Non esiste L'organizzazione giusta Esiste il fatto Che se tu Ogni 6-12 mesi La cambi In realtà Quello ti crea La tensione giusta Perché c'è una Continua evoluzione Le persone Che cambiano Da un punto All'altro E tu Copri i buchi Di un modello Organizzativo Cambiandolo Verso un altro Che magari copre Quei buchi Ma ne crea altri E quanto sono importanti In questo processo I ruoli E quanto le persone Quindi proprio Chi c'è All'interno di quel ruolo Come interpreta Quel ruolo Cioè In un cambio Così frequente Immagino che ci sia Un'importanza Le persone Fanno sempre Solo la differenza Però poi tu come leader Devi essere in grado Di metterle Nel contesto giusto Perché la giusta persona Nella sbagliata posizione Non performa La persona media Nella giusta posizione Può fare la differenza Perché ha tutto quello Che gli serve Del resto Questa è una cosa Che noi Diciamo spesso E ci siamo spesso Accorti Che uno degli errori Più frequenti È quello di prendere Qualcuno Che eccelle Magari in un'area E dire Ok Allora tu sei una persona Molto brava A fare questo Ti metto a fare tutt'altro Perché in quell'area Nell'azienda C'è una carenza C'è un problema C'è qualcosa che non va Hai saputo risolvere i problemi là Saprai farlo lì E poi molto spesso Guarda Sono due filosofie opposte Cioè La modello americano Spesso ti dice Tu prendi Per ruoli iper verticali Stavo parlando ieri Con questa ragazza Che lavora in Pinterest E ha un ruolo Iper verticale Ok Cioè Sviluppo Delle audience Iper Iper verticale E se guardi la carriera È sempre stata Di questo tipo Dall'altra invece Ci sono organizzazioni Che hanno l'obiettivo opposto Dicono Noi prendiamo gente sgamata Sveglia Selezioniamo all'estremo Ok Benning Spoon sa molto Questa filosofia Difficilmente inseriscono Profili esterni Molta crescita interna Ragazzi Iper selezionati Per entrarci Prendono 0.3% Di che applica Su 150.000 candidature Ma una volta Che sei dentro Poi cresci Ti sviluppi Perché Perché se sei un talento Ti adegui Sono due mondi Totalmente diversi E la tua esperienza Cosa ti dice? Ancora La fanno la differenza La fanno le persone Quindi dipende Il tema negli Stati Uniti Che tu devi crescere A una tala velocità Su un solo prodotto Che portarti a bordo Uno che ha Quell'esperienza Così verticale Fa sì che semplicemente Ti porti quell'esperienza Se invece Stai costruendo Modelli di business Nuovi Ecco allora È difficile Assumere Quindi ti serve Molto di più Avere persone Un po' più orizzontali Che si sanno adeguare Quindi dipende Tanto da Quello che fai Sempre questo Del sales Lui dice Io nella vita Ho solo costruito Quando entravi In un'azienda Che aveva una decina Di account management E di account E li portavo Ad averne mille E io l'ho fatta Sei volte Quella roba lì Cavolo tu pensa Che è un my founder Stai partendo È costruito un buon servizio Cominci a vendere In co Il fondo Perché spesso È il fondo di venture capital Che te lo mette negli Stati Uniti Ti mette quella persona Che l'ha fatto dieci volte E sa esattamente Come si costruisce Cosa deve andare a fare Sei bravo a licenziare? Non è mai facile La mia filosofia però è Prima di tutto Se si licenzia una persona Non è uno sbaglio della persona Ma è uno sbaglio dell'azienda Vuol dire che l'azienda Non è stato capace Di selezionare Ciò di cui aveva bisogno Per quella determinata posizione O non è stato in grado Di costruire una diversa opportunità Per quella persona All'interno della organizzazione Quindi questo secondo me È il primo elemento fondamentale Il secondo elemento fondamentale È pensare che Tenere una situazione Che non funziona Paradossalmente costa Molto di meno All'azienda All'azienda che ha la persona Perché se tu hai Duecento dipendenti Una persona che non funziona Non è che ti faccia la differenza Cioè tanto il P&L Sta in piedi O non sta in piedi comunque Ma per quella persona Stare a lavorare In un posto Che tanto Non riesce ad esprimere Il suo potenziale Sta perdendo tempo E la cosa che ho visto Anche di persone Che sono passate In Telen Garden È che poi Messe in altri contesti Hanno performato benissimo Non è mai Un problema Della persona E questo purtroppo È uno stigma italiano Terribile Cioè tu vai a casa Dici ho stato licenziato Che cosa hai fatto Che cosa hai fatto Cioè hai rubato Hai chiuso No Semplicemente Per la situazione Di oggi dell'azienda In questo contesto Non sei la persona giusta Ma sei una persona Fantastica davvero Cioè E io ho visto persone Che guardi E dici cazzo Bravissime Che bella Quella azienda Che è riuscita A costruirgli Il ruolo giusto Che non si è riusciti a fare La difficoltà Nel licenziare È proprio questa Cioè Anche il fatto Che ti rendi conto Molto ovviamente Che stai sbagliando Qualcosa e tutto E lì secondo me La difficoltà vera È anche capire Quanto puoi riuscire A provare A riallocarla E quanto invece È più win-win Il lasciarla andare subito Perché questa persona qua Si ricostruisce Da qualche altra parte Io credo che la velocità Sia fondamentale Ne parlavo con una persona Nel nostro team L'altro giorno Io ammiro le aziende Amazon questa cosa L'ha sempre fatta Che licenzano Fisso ogni anno Perché comunque Soprattutto quando L'azienda cresce A nessuno piace licenziare Chiaramente Quindi cosa succede Che i manager Dicono Fai che l'azienda Va benino In qualche modo Coprono Delle persone Anche perché coprono Le loro lacune E quindi ti si riempie L'azienda di persone Che magari Non stanno performando E lì è molto facile Puoi andare ad avere problemi Esattamente Amazon cosa ti dice Ogni anno 5% della popolazione è fuori E sono tante le aziende Che fanno questo ragionamento Perché? Perché questo obbliga i manager A dire Voglio i migliori Faccio uscire Quelli che non vanno E questa cosa qua Ti tiene sempre pulita Che è Se la guardi in Italia Taglia il rischio Che venga vista Come il male assoluto Un'azienda Che taglia il 5% Delle sue persone Ogni anno Vuol dire Che è il male A parte il fatto Che non è così facile Senza poi Però in realtà Ancora È il bene della persona Cioè Dobbiamo uscire Da questo stigma Poi è ovvio Che serve un mercato Del lavoro Che è in grado Di reagire E fare Ma noi per esempio Cerchiamo sempre Di aiutare la persona A inserirsi A cercare di costruire Ancora Perché io non credo Che se una persona Esca da noi È perché lei è sbagliata Ma perché noi In quel momento Non siamo in grado A valorizzarla Leggevo un libro Recentemente Non mi ricordo il titolo Di coaching E parlava A questo consulente qua Di come Sai che è coaching No è un altro In verità Ready Fire Aim Forse Vabbè dopo Troveremo il titolo E lo segnaleremo E lui è un consulente In Silicon Valley E eccetera E lui parlava Di come tante aziende Si concentrino Di non avere turnover O di averne pochissimo E diceva È una gran cazzata Perché più tu ti concentri Su non avere turnover Tu vuol dire Che ti ritrovi Un sacco di persone Che tu cerchi Continuamente Di motivare Anche se ti rendi conto Che non sono le persone Perfette da tenere in azienda Per quello che serve a te A quel momento lì E quindi tu combatti Per mantenere lo status quo Perché ogni volta Cerchi di motivarle Per fare il giusto Quando invece Avere un turnover Non troppo alto Ma comunque Un bel turnover Ti aiuta Ogni anno Invece A portare gente Dentro Gente Che tiene La tensione alta Che è un po' Quello che stavi dicendo Anche te prima Quando dicevi L'organizzazione Ogni 3, 6, 12 Andava a cambiare Sì Devi stare attento Perché spesso Il turnover Non è una cosa Che controlli E il problema È che fino a che Il turnover Ti porta fuori Quelli che non vanno bene Funziona molto bene Dall'altro Devi essere molto bravo A costruire sistemi Incentivanti Per chi vuoi far rimanere Per far rimanere Le persone che invece Ti servono E sono fondamentali Per la tua azienda E questo È una delle cose E lo guardo su di noi Perché poi non è che Siamo perfetti Anzi Che è difficilissimo A fare Cioè Come fai davvero A incentivare Chi vuoi tenere E fare uscire chi Perché è molto più facile Essere democristiano Non è cercare Di tenere buoni tutti Perché poi alla fine Serve forza lavoro E questa cosa Si crea sempre di più Nel momento in cui Ci sono vari livelli aziendali Perché è difficilissimo Licenziare Soprattutto in Italia Già l'edificio A livello legale E l'edificio A livello culturale Invece è fondamentale Cioè Riuscire a tenere Un buon Churn Che però È quello che tu vuoi Noi è una cosa Che abbiamo misurato L'anno scorso A un certo punto Secondo noi avevamo Un turnover abbastanza alto A un certo punto Abbiamo detto Misuriamo il turnover Quello vero Quello delle persone Che vogliamo far andare fuori E non di tutte E lì ci si è resi conto Per esempio Che il nostro turnover Era comunque sopra Quello dove volevamo che fosse Ma comunque Molto più basso Di quello reale Perché? Perché in realtà La macchina in qualche modo Buttava fuori Tante le persone Che comunque non volevamo E quindi eravate messi bene Questo forse Messi bene no Ma messi meglio Merito Merito della cultura aziendale Che stai riusciti a creare Sì Sapendo che la cultura aziendale È qualcosa Che si evolve tantissimo Ok Quindi secondo te A cos'era dovuto questo? Guarda Ci sono periodi diversi Devo dirti Tra il 2020 E il 2022 In generale C'è stato Fenomeno Great Recession Che è stato ad altissimo E c'è stato Soprattutto uno shift Nei business Dell'azienda Cioè Chi aveva business Che era più Diciamo complesso Noi facevamo corsi di formazione Spazi di lavoro fisici In momento del covid Chiaramente abbiamo avuto Tante persone Che trovavano Molte più opportunità In business Totalmente digitali Che crescevano Molte più In quel momento E poi dall'altra Spesso fai una serie Di errori gestionali Io credo sempre Che il turnover Sia il riflesso Del non capacità Della leadership E del management Di trattenere i talenti Come siete riusciti In un'intervista Tu raccontavi Che Mi sembra che era con Marcello No? E un certo Dicevi Vedi questa persona qua Era un ragazzo Che lavorava in Talent Garden E ora ha un progetto Con Talent Garden Cioè quindi vuol dire Comunque avete La capacità Di riuscire Con dei talenti A tenerli E quando poi Vogliono Spiccare il volo Comunque accompagnarli Ma guarda Una cosa che avevo Fatta a un certo punto Era stata Non calcolare Nelle persone Che uscivano Quelli che facciano Gli imprenditori Perché quella Per me non è uscire Quello è un successo Dell'azienda Cioè nel momento In cui hai costruito Visto che noi abbiamo Una cultura aziendale Molto imprenditoriale Cioè noi ti diciamo Noi non abbiamo Un prodotto definito Che tutti devono vendere Che è totalmente allineato Qui è Creiamo opportunità E costruiamo cose Quindi è richiesto A ognuno Di fare la differenza Questa cosa Porta che alcuni Di loro Molto brillanti Vogliono costruirsi Le loro imprese E abbiamo fatto A un certo punto Era ancora qualche anno fa Una lista Erano già una decina Di aziende Che erano nate Da persone Che lavoravano da noi E quello Secondo me È una cosa Di cui le aziende Devono essere orgogliose Gli imprenditori Deve essere orgogliosi Perché vuol dire Che tu stai costruendo Una scuola Che attrae Persone di valore Ma che poi Costruiscono Le loro imprese E quello è Una cosa Da celebrare In azienda Ok E addirittura Tante volte Abbiamo costruito Sperimentato Anche Creative Arbor Che parlavamo prima Nasce da Una persona Che lavora In Talent Garden Che è una figura chiave Che è Matteo Marchesano Che però Insieme ad altri due amici Dice Voglio costruire Vedo un bisogno Voglio costruire Un'azienda E lui È a metà Tra Creative Arbor E Talent Garden Una persona chiave In Talent Garden Addirittura Noi abbiamo investito In Creative Arbor Perché? Perché volevamo Stimolare Questa sua imprenditorialità Ed è una cosa Che tante volte Avremmo voluto fare Forse sbagliando Non abbiamo fatto Cioè proprio quasi Essere un incubatore Non verso il mercato Ma verso Ce li avete già dentro Cioè Hanno lavorato con voi Conoscono la vostra mentalità Diventa quasi più facile Poi andarci a costruire Qualcosa assieme E questa cosa La esternate direttamente Con i vostri collaboratori Oppure Comunque Il collaboratore Che sempre c'è Deve essere lui A dire Quest'idea Abbiamo provato Più volte Non siamo mai riusciti A mettere la terra Ed è stata Una delle cose Che forse Mi rimpiangono Ancora fatto Però è un tema Secondo me bellissimo Abbiamo parlato tantissimo Soprattutto con Rasa Che è una delle mie co-founder Con cui abbiamo provato Mille volte A costruire un modello Un po' più definito E invece è sempre Capitato un po' By occasione Però secondo me È molto bello Mentre è diverso Quando una persona Che credi che sia di valore A cui hai provato a dare Se ne va Perché a quel punto Vuol dire che Non sei stato in grado Di metterla Nelle condizioni Di fare la differenza E lì è un grandissimo Secondo me Smacco Che ti devi prendere Come fondatore Amministratore legato Manager in generale Del dire Non sono riuscito A costruire le condizioni Perché quella persona Rimanesse Ed è anche un momento Forse di riflessione Per dire Cosa posso fare diversamente La prossima volta Tantissimo E questo è un bel tema Gestire talenti Persone che performano bene Ma persone che sono anche Molto ambiziose A volte ti fa dire Ok ma lo sto facendo davvero O forse lo lascio andare Però poi è quello che fa Anche la differenza È quello che fa la differenza Però è molto complesso Guarda il problema Nei business Io credo che Il business Sia la roba più facile L'unica cosa difficile Sono le persone Perché Attrarle Portarle a bordo Trattenerle È la cosa più difficile Del mondo E purtroppo È una sfida quotidiana Perché poi appena pensi Di aver fatto qualcosa Poi c'è quello di Cioè E vai Questo problema L'abbiamo risolto Abbiamo risolto Scusa Io ti volevo dire E quindi veramente È il focus Io credo che a un certo punto Il lavoro dell'amministratore delegato Che mi chiedevi prima Sia solo gestire talenti Perché tanto la differenza Non la fai più tu Cioè In Talent Garden Io non faccio la differenza Ma non la fa neanche Irene Come amministratrice delegata Non la fa neanche la prima linea Perché tanto Su 250 persone di gruppo 10 persone Non fanno la differenza La differenza La devono fare Nel trattenere Le 30-40 Che rispondono a loro Che gestiscono davvero L'organizzazione E lì tu costruisci La cultura aziendale Lì tu costruisci Quello che diventa L'azienda del domani Ed è difficilissimo Ed è tanto lontano da te Lontanissimo Io Ammetto Ne sono orgoglioso Non conosco tutte le persone Che lavorano per noi E ogni volta Quando ogni tanto Anche solo al caffè C'è quello che ti guarda E dice Ma quello è Perché l'ho conosciuto Una volta a un evento O perché lavora con noi Lì ti senti una merda Però non è facile Riuscire a gestire tutto Secondo te questa cosa qua Dei talenti da mantenere Perché secondo me Attrarli a un certo punto Ok è più facile poi Che riuscire Man mano che cresce A mantenerli È più difficile Nelle fasi più iniziali Dove quindi devi riuscire Anche a capire Qual è il piano di crescita Che fai alle persone O è più difficile Poi più avanti Secondo me è difficile Purtroppo in tutte le fasi Di sicuro Una cosa che dico sempre È Cavolo La prima persona che assume È difficilissima Io mi ricordo Che nelle prime 5-6 Noi le abbiamo sbagliate Ma tantissime A un certo punto Assumavamo una persona di marketing Credo che abbiamo avuto 8 persone di marketing All'inizio Era la prima E cavolo Anche Il problema è che Se tu sbagli una persona E sei in 5 Tu stai sbagliando Il 20% L'agenda Cioè Sai se ne sbagli una oggi Dici vabbè In qualche modo E quella roba lì È difficilissima Il problema cos'è Che nella fase 1 In qualche modo Sei tu E quindi la controlli Quando vanno via persone Che secondo te Sono bravissime Che sono magari Due livelli sotto Eh cazzo È difficilissimo Cosa succede adesso E scusami Quando hai cambiato Così tante persone All'inizio Non riuscivi a trovare Un pattern Del fallimento Nel trovare La persona giusta Sì però Non la trovi mai Al primo Al secondo Al terzo Di solito al decimo 8 Perché intanto La tua tendere in 6 Quindi Quindi ci vuole comunque Un po' di tempo Il pattern L'unica cosa che ho capito È Trova le persone Con cui ti trovi bene Perché ci passerai Un sacco di tempo Eh questa è Parte integrante È la nostra filosofia Cioè Fai le cose Fai le cose È partito tutto Con fai le società Però possiamo Estenderlo A lavora Solo con le persone Con le quali andresti a cena Con le quali andresti a cena Noi guarda Prima per le società Era falle con chi andresti a cena Poi a un certo punto Le abbiamo trasformate In falle con chi andresti in vacanza Perché quelle che sono fallite E le persone con cui noi Saremmo andati a cena Ma non in vacanza Piero piano sta diventando Falle con chi andresti in vacanza In barca a vela Che è uno spazio piccolo Dove per convivere Devi andare davvero d'accordo Sì Dall'altra Secondo me a un certo punto Devi anche renderti conto Questo è stato per me Una doccia fredda Che su 250 persone Troverai persone anche diverse Ed è impossibile Trovare veramente Quell'allineamento costante Quindi anche Trovare persone diverse Da te In co E riuscire a costruire Un ecosistema che le assorba È una sfida grande Però Diverse Diverse Non è per forza In contrapposizione A quello che abbiamo detto Cioè io andrei in vacanza Con tantissime persone Molto diverse da me Ma che so che possono Con le quali posso avere Uno scambio E delle discussioni interessanti Quindi non è per forza In contrapposizione Oppure tu intendevi A una certa Comunque Devi mettere in conto Che avrai anche Anche delle persone Con le quali Non andresti a cena Non andresti in vacanza Guarda Questa è una filosofia Che ne parlo ogni tanto Con Paolo De Nadai E lui Devo dire Hanno costruito Una cultura zionale Molto bella È il One day E con Paolo Loro anche Sto dicendo Una cultura molto bella Molto di amici Cioè loro vanno a cena Quasi tutte le sere In Tallengarde Andiamo molto poco A cena Molto poco fuori Eppure riusciamo A lavorare Se vuoi In un stesso modo Quindi Credo che anche Uno degli aspetti Che devi definire È che cultura vuoi Se è un gruppo di amici Che lavorano insieme O se è un gruppo Di persone allineate Verso un obiettivo Che lavorano insieme E ancora Questa cosa qua Parte ragazzi E non ce ne andiamo molto Dall'indole dell'imprenditore Perché alla fine Sei tu a definirlo Scusa Non si è capito Che l'avete detto insieme Vai Dall'indole dell'imprenditore Dal chi sei tu Quella cosa lì È quello che ti fa la differenza Perché se tu sei una persona E Paolo è molto più bravo di me Su questo Socievole Io sono molto più chiuso di mio E quindi È più difficile Questa cosa E quindi alla fine Le aziende diventano Chi le ha create Poi si evolvono Perché Tallengarde non è più Davide È molto diverso E quelle persone che assumi Sono più importanti di te Oggi se io penso Rasa Che è questa mia cofondatrice Ha fatto molto di più La cultura di me Abbiamo avuto nel tempo Persone che hanno costruito Ancora di più La cultura di me E quindi è un'evoluzione Però i tuoi difetti Sono rappresentati Nell'azienda In un modo che ancora Io mi chiedo Come sia possibile Veramente quando dicono Il genitore col figlio È quello È lo stesso effetto Quando parlavamo prima Di hiring Di assunzioni La difficoltà Che ho avuto all'inizio È come nessuno Ti insegna a far L'amministratore O gestire un'impresa Nessuno ti insegna neanche Che cosa offre alle persone Quando le assumi E cioè Lo impari Sul campo Ma mi sembra quasi Che non impari mai Ti manca sempre qualcosa Hai su questo Qualche consiglio O qualcosa Che ti ha aiutato Nel gestire questo Soprattutto perché Quando poi inizi Sei una start up Le persone magari Le porti a bordo E non sentono neanche Troppo la necessità Di avere un piano Di crescita Per il lungo periodo Perché sanno Che stanno salendo a bordo In un'azienda appena nata C'è l'entusiasmo Ma appena inizi A essere sul mercato Da un po' Le persone ti dicono Io vengo a lavorare da te Mi piace questa offerta Che mi hai fatto Ma l'anno prossimo L'anno dopo Quello dopo ancora Guarda Questo è un bellissimo Un bellissimo tema Io se penso Ai regret più grandi Di quando sono partito Con TAG È che sono partito Troppo presto Io sono partito Che avevo vent'anni E partendo a vent'anni Avevo poche esperienze Manageriali Quindi ho scoperto Io ho fatto Forse la mia vita Due tre No ormai Fai cinque sei colloqui Cavolo Non avevo l'esperienza Invece ogni tanto Vedo persone partire Magari a Trentacinque Quarant'anni Dopo x anni di lavoro E se tu hai fatto Sessanta colloqui Dici ah quello lì Ha stato bravo Ma faceva sempre le domande Così Quell'altro Quella roba lì ti cambia E così sui contratti Se tu hai fatto sei contratti Nella tua vita Più o meno Sai come sono fatti Io non avevo mai avuto Un contatto di lavoro Era difficile farlo Quindi secondo me Un po' di esperienza Li serve Ancora quello che fa La differenza Le persone intorno a te Io per esempio Una delle persone Con cui sono partito In Talent Garden Si chiama Gianfausto Ferrari Era un imprenditore Che aveva sessant'anni Quando siamo partiti Che mi ha insegnato Come assumere la prima persona Perché? Perché lui l'aveva fatto In una zona totalmente diversa E il primo colloquio Mi ha fatto capire Che lui che cosa cercava E lui che cosa offriva Lui che cosa impostava Poi ovvio che si evolve Se oggi penso rispetto a come era allora È totalmente diverso Però devi essere bravo A circondarti delle persone giuste Perché tanto tu non fai la differenza E tu impari dagli altri E per imparare dagli altri Devi avere degli advisor Dei consulenti Dei soci Dei fan Delle persone che porti a bordo Che siano le cose migliori E se tu trovi Gente sbagliata Chiudi Spesso noi diventiamo persone sbagliate Perché ci siamo circondati Di persone sbagliate Ed è Non è per niente facile Di riuscire A circondarsi Delle persone giuste Cioè O riuscire a capire In tempo Quale persona È giusto vicino Quale è sbagliata Per poter raddrizzare La baracca Siete quando si tratta Di fornitori Penso soprattutto agli inizi Quando i commercialisti Studi legali Eccetera No? Ma anche persone Che appunto Ti possono guidare In scelte del genere E qui c'è Un effetto fondamentale Che è quello Una delle basi Su cui è nata Talent Garden L'idea del Costruiamo una community Di persone Che stanno facendo cose simili Perché? Perché se stiamo vicino ad altri Che fanno queste cose Se impariamo ad altri Che fanno queste cose Vado agli altri A chiederglielo Questa cosa qua È fondamentale Se vai in Silicon Valley Vai in un bar Tu vai e parli Con quello di Facebook Quello di Google O con altri imprenditori Se vai a Milano Parli della gazzetta Allo sport O di cosa ha fatto La politica Costruire community Di imprenditori Stare con altri Imprenditori Frequentare altri Io con Paolo De Nadai Sempre di We Road One Day Noi ogni mese e mezzo Ci vediamo a pranzo E lui A parlare di Non c'è un'agenda Ogni tanto finisce Adesso abbiamo un po' Di temi di bambini Cose Casini vari Altri periodi È stato hiring Altri periodi è stato E ogni volta Ci confrontiamo Su queste cose Io con tanti Io uso lo strumento Del pranzo Come hiring O come confronto Perché credo Che sia uno strumento Meraviglioso Tu ti siedi Non hai un'agenda Però parli di quello Che è il tuo problema Di quella settimana E spesso la persona Che è davanti Fa la differenza Poi nel tempo Pian piano ti costruisci Che sai Che quello è bravo Su quello Quello su quell'altro Vai a chiedere consigli Una sorta di mastermind Fatto al pranzo Ecco Io nel caffè Di Italian Garden La mia vita È proprio lì A pranzare Con persone interessanti E ti capita Oltre persone Che tu cerchi Perché magari Tu cerchi persone interessanti Di persone Che invece Vengono a cercare te E quindi Di sederti con loro Per dargli una mano Eccetera Guarda Cerco di essere Sempre disponibile E nel tempo Tantissime persone Che mi scrivono Diciamo La mia filosofia è Trenta minuti Non si negano a nessuno Poi purtroppo Nella crescita dell'azienda Diciamo Non sempre riesce a farlo In tutti i periodi Quindi ci sono dei periodi Sono direte I trenta minuti Non si negano a nessuno Se ci sono Quindi io Diciamo Uso HubSpot Con un link In cui Metto ogni settimana Degli slot Che dedico E quando sono liberi Uno si prenota Perché? Perché credo che Quello che a me è stato dato È stato che tante volte Persone brave Smart Mi hanno dedicato del tempo E me lo dedicano tuttora Così io provo Nel mio piccolo A dedicarlo agli altri Credo che questa cosa Vada tenuta nel tempo Perché è quello Che fa la differenza Negli Stati Uniti È abbastanza normale In Italia invece Uno dice Ah ho fatto La cosa E quindi adesso È chiuso C'è il libro Never Eat Alone Che è molto figo Ed esprime questo concetto qua E secondo me Tante volte I ragazzi oggi Hanno un po' paura Anche a chiedere O meglio Si dividono in due Quello che Posso chiederti una cosa Chiedimela Neanche ti rispondo E quelli che invece Magari sono Troppo timidi Per chiederti Magari invece Poi otterrebbero Una risposta positiva Perché si porrebbero Nel modo giusto No? Invece la gente Dovrebbe un po' più Usare da questo punto di vista Sto parlando Con questo ragazzo Che studia Data Scientist Da noi L'altro giorno E mi dice No perché io vorrei fare Data Scientist Il corso Sto facendo Il mio sogno Dagli Stati Uniti E gli ho detto Ma tu con chi è Che hai parlato Che ha fatto la tua carriera Vabbè ma ho scritto A tre Non mi ha risposto Quindi poi ha mollato Scrivi a trenta Cioè passati Io passo un sacco di tempo Su LinkedIn Vatti a guardare Tutti gli italiani Che sono negli Stati Uniti Che fanno Data Scientist Scrivi a trenta Due forse ti rispondono Con quei due Non scrivergli Posso chiederti una cosa Che cazzo Dimmi Sono un ragazzo Sto studiando questa Hai fatto la carriera Dei miei sogni Mi dedichi Trenta minuti Che voglio farti Le domande Fidati che Due Tre Quattro Magari dieci Ti rispondono Qual è il valore Che porti a casa Enorme Invece ogni tanto Abbiamo paura Cioè non abbiamo voglia O abbiamo paura Del dire Ma poi non mi risponde Vabbè certo Che non succede nulla Comunque Anche se poi uno Non ti risponde Anche se ti risponde male Insomma Sì esatto Anche io Ho il link In pieno Non ho risposto A tutti Tutti Anche se ci provo A proposito di questo Non riesco a rispondere Trenta minuti Come organizzi La tua giornata Che immagino Essere abbastanza Serrata Guarda io cerco Ogni mattina Di prendermi Un paio d'ore Per me stesso Ho la fortuna Di svegliarmi presto Quindi io tra le Cinque Cinque e mezza Fino a sette e mezza Otto Cerco di fare Un'oretta di letture E un'oretta di sport E quello per me È il momento Dove capisco Dove sono Capisco Nel pezzo del mondo Quindi io leggo Il Corriere O un giornale cartaceo Leggo il Financial Times Per capire Cosa sta succedendo fuori Twitter LinkedIn Cerco di informarmi E se riesco Un po' a un libro E poi cerco Di fare qualcosa Correre Perché quella cosa lì Mi prepara la mente A quello che sarà La giornata Nel mio lavoro di oggi In realtà Il lavoro è Incontri Quindi O riunioni interne O riunioni con gli esterni Ma è incontri Incontri Quindi ogni tanto Arrivi la sera Che sei bollito Perché hai parlato Con tutti Tutto il giorno Ci sono giornate interne In cui non apro il computer Che è anche bello Oppure giornate interne In cui passo la giornata Solo a fare call Col computer Però comunque Cambia poco Cambia poco E quella è parte integrante Il mio lavoro E una delle cose Che cerco di inserire Per esempio È fare call Sempre a slot Non da 60 minuti Quindi o da 25 O da 45 Cavolo Questa cosa fa la differenza In una maniera incredibile A un certo punto Ci siamo detti Ok abbiamo tutte le call Diamo per scontato Che siano i 60 minuti Noi proviamo A metterle da 30 minuti Vediamo che cosa succede Non è cambiato nulla O quasi Allora io sono talebano Alcune le abbiamo Trasformate poi in 45 minuti Ma nessuna È rimasta di un'ora Guarda io sono talebano Per la puntualità Cioè se abbiamo una call Alle 15 Io alle 15.00 Sono online Una volta Mi ricordo Che come ho impostato Questa cultura in azienda Era un leadership team Avevamo una riunione 15 Riunione alle 15 Tutti arrivavano 15.04 15.05 15.06 Niente di 15.20 Io alle 15.02 Sono uscito dalla cosa Ho beccato metà del team Che stava arrivando E gli faccio Ragazzi Io alle 15 c'ero Se volete partecipare alle riunioni Le riunioni partono Chi arriva dopo Non entra Da quella volta Noi abbiamo costruito Una cultura in cui per anni L'abbiamo mantenuta Poi nel cambio Vari Diciamo un po' Oggi l'abbiamo persa Però quella cosa lì Per me è stata fondamentale E come inizia Deve finire Cioè io se finisce 45 A 45 chiudo Eh questo Questo a volte è complesso Però capisco perfettamente Quello che Perché Perché per me Quei 5-10 minuti in mezzo Sono fondamentali Uno per capire Dove sono nel mondo E secondo Per debriefarmi Perché io Che come vedeva prima lui Ho una memoria terribile Se no non me la ricordo Che cosa ci siamo detti Cioè se ho dei to do da fare Se non me li scrivo Non me li ricordo Addirittura c'era Questa persona Incredibile Che è il Sio di una grandissima Azienda globale Che mi raccontava Che lui Dopo un'ora di appuntamento Faceva sempre un'ora Di think time Di tempo Dedicato a debriefare Quell'incontro Riportava poche persone Sicuro Per riuscire a dedicare Un'ora poi Al think time Tra l'altro Hai parlato di riunioni Hai parlato di De Gritzio Weaving Prima E lui è Molto nazi Su come funzionano Le riunioni E tutto Tu invece Cioè Adesso beh Adesso ti facendo tanti incontri Che magari sono Contri di esplorazione Conoscitivi Eccetera Ma quando invece Sono delle riunioni Come dicevi prima Tipo il leadership team Guarda io credo Che uno dei problemi Soprattutto la cultura italiana Sia la dispersione di tempo Noi questo lo vediamo tanto Con gli internazionali Che ogni tanto ci guardano E dicono Siete proprio inefficienti By design Cioè Riunione Oggi avevo una riunione Di due ore Sono praticamente impazzito Su un tema Non c'era un'agenda Non mi hanno condiviso Niente ieri Io mi sono presentato E gli ho detto Ragazzi Oggi abbiamo due ore libere Perché io una riunione Così Non la faccio Che cosa ci stiamo trovando A fare Che voi mi dite Delle cose Mi fate vedere Una presentazione Per un'ora e cinquanta E poi tornerai Per me uno dei temi chiave Mi mandi almeno 24 ore prima Cosa dobbiamo parlare Dei materiali da leggere Così io arrivo già pronto In Amazon Filosofia diversa Arrivi Devi avere il famoso Comunicato stampa Tutti i primi 15 minuti Leggono che cosa è il topic E poi se ne discute L'impreparazione di una riunione È il non senso Di fare una riunione Su questo Secondo me Costruire una cultura Un po' forte In azienda È fondamentale Perché mettersi dei limiti Sennò è Troviamoci a fare Brainstorming Certo Non arrivi a una decisione E qui si innesta Secondo me è un tema Bellissimo Noi in tag adesso L'abbiamo un pochino perso A un certo punto Ce l'avevamo L'asincrono Io conosco aziende Che sono totalmente asincrone Le riunioni non ci sono Si apre un canale Slack Si parla per un tema Ognuno può Nella settimana successiva Rispondere a cose Ma sapete la qualità media Di quella conversazione Come si alza Perché nessuno Voglia scrivere sei pagine Quindi Alla fine Tu ti metti lì Ci pensi Rispondi in modo Molto più chiaro E nel 90% Alle volte Tu elimini le riunioni Noi abbiamo iniziato a farlo In un'azienda Aria Quella con Giulia Caterra Tra noi soci Perché per decidere Le cose importanti Del mese Grazie però Perché Perché il ragazzo Che gestisce il progetto So che gli piace scrivere Ed è molto chiaro Nello scrivere E quindi ci riesce a preparare Tutte le informazioni Con cui poi noi Ci confrontiamo E arriviamo alla decisione Prima della call Certo che è difficile Tante volte Riuscire A impostarlo con tutti Però anche qua Io per esempio Ci sto provando Ho tre persone Dove avevo una call settimanale E ora gli ho detto Tu in calendario Tieni quell'ora Di call Ma tu non mi chiami In quell'ora lì Apri Basecamp Noi usiamo Basecamp Come tool Inizia a scrivere Quello che vorresti dirmi Dopo dieci minuti Secondo me Inizia a cancellare Perché ti sei già risposto A metà delle cose E mi invii Quello che hai scritto E io entro 24 ore Ti do la risposta E ho tolto delle call E arriviamo A soluzioni Effettivamente Dove però Io metto la mia energia Quando ce l'ho Perché se mai Il problema del sincrono Tante volte è che Io magari ho una call Ma prima le ho già fatte Quattro ore di call È difficile che poi In quella call Se sono chiamato Per una decisione difficile Avrò magari L'energia mentale Per dire Sì guarda Ti do la risposta migliore Del mondo Ora diminuire Il numero di decisioni Che devi prendere ogni giorno E cercare di Io dico sempre Metterci una notte prima De prenderla È fondamentale E se tu In una riunione Mi dici Cosa ne pensi Cosa vuoi che ne pensi Improvviso Poi magari esce anche Un'idea decente Ma di media fa schifo Se tu mi lasci Dimelo il giorno prima Me lo leggo Mi leggo il documento La notte ci dormo Il nostro cervello Durante la notte Elabora E la mattina dopo Ti do una risposta Un pochino più intelligente Di sicuro Però questa Purtroppo va forzata Perché noi non siamo Nessuno ci ha insegnato E questo è un corso Che noi ogni tanto Inseriamo su di noi Nessuno ci ha insegnato A lavorare Nessuno ci ha insegnato Come fare una riunione Nessuno ci ha insegnato Come organizzarci l'agenda Ci sono tecniche Anche estreme Ok Molto forti per i developer In cui pomodori Però imparare a lavorare E costruire il proprio modo È totalmente qualcosa Che ti cambia la vita Perché se no Sei inefficiente By design Contri persone Vedi cose Parteci Per riunioni Impegnato Impegnato E quello fa parte Di quel lavoro Che deve fare il fondatore L'amministratore legato All'inizio Definire quali sono I valori culturali Su cui si lavora Che è fatta da due cose I valori E gli operating principle Come si prendono Le decisioni ogni giorno Questi due documenti Sono fondamentali Perché sono Come l'azienda si evolve E la capacità E la sfida Che noi a fasi alterna Abbiamo provato a fare È cercare di mantenere Quelle cose Poi nella cultura Cascading di tutti Cioè Se tu entri in una riunione Dove sei in sette Prendi ed esci Che cosa ci stiamo vedendo a fare Di media Parlano sempre quei tre Gli altri quattro Stanno in chat Fatta fare altro Certo Se abbiamo Eliminala quella riunione Cioè Secondo te Quanti partecipanti Al massimo Possono stare in una riunione Dipende dai topic Dipende dalle aziende Al culturale aziendale Ma meno sono meglio è Amazon ha la teoria Della pizza Ti faccio un esempio Noi facciamo le chiamate Ogni lunedì I diversi team Sulle diverse aziende Hanno La chiamata di team Dove Effettivamente A parlare Sono sempre Due tre persone No Tre quattro magari Partecipano Fino a Diciotto persone A giro Qualcuno Prende la parola A giro intendo Per settimana Secondo te Stiamo sbagliando La domanda che mi farei è Può quella riunione Essere sostituita Da un update scritto Ok È una domanda che assolutamente Cercherò di rianalizzare Queste chiamate In quest'ottica qua Perché a quel punto Può essere un report Che la domenica sera Qualcuno invia a tutti O scusami ancora meglio Un Google Drive O un Ocean O quello che sia Dove che tutti inviano Lunedì mattina Si sa che tutti commentano E quindi magari C'è un'interazione di commenti E dentro l'ora di pranzo Viene condivisa La versione finale Di cosa è stato deciso Quali sono le priorità Della settimana Questo potrebbe essere interessante Da testare Come approccio C'è il tema inoltre Dell'essere tutti da remoto E quindi questo secondo me Serve ogni tanto Il punto di contatto Con tutti Però secondo me Non è comunque Quella call L'efficienza Cioè Togli quella call Lavori scritto in quello Però poi trovi comunque Come fare in modo Che tutti abbiano Il momento Magari non tutti assieme Ma a gruppetti Hanno un loro momento Dove sentono la presenza E non che tutta la settimana Non sentono nessuno Da remoto No ma magari Noi a un certo punto Durante Covid Abbiamo inserito Ogni mattina 30 minuti Dove tutti ci connettavamo Ma era Un coffee with a team Si parlava del Più del meno Noi ci abbiamo provato Ad avere la pausa caffè Cioè un posto Dove ognuno poteva andare Proprio come una macchinetta Del caffè Però era su Whereby Un tool che si utilizzava In quel momento E effettivamente È fallito Si è arenato In un attimo Però è molto interessante Questa cosa Perché una cosa Che mi capite In continuazione È dire Durante le call Chissà quante persone Stanno effettivamente Buttando via Questo tempo Perché poi ovviamente Questo tempo Ha un costo Per l'azienda E quindi Poi la domanda È chissà Quanti soldi Sta buttando via All'azienda In questo momento Calcolando il costo Orario Mettici in poi Che tutti sono arrivati Tra i due Tre e cinque minuti Di ritardo Su questo siamo Molto bravi Ok Su questo siamo Molto bravi Il costo enorme Ma davvero Le riunioni sarebbe Da eliminare Ci sono tante Filosofie americane Scusatemi Non è che le applichiamo Tutte Ogni tanto ci proviamo Su alcune Ma prendi E cancella Tutti i meeting ricorrenti Perché deve essere Un meeting ricorrente Di per sé No? Fino a che una volta Non ci sarà sempre Un motivo Per avere A quel meeting ricorrente Il mio approccio Personale A parte Le chiamate Che ti dicevo Che sono principalmente Con l'intero team Sono di solito Il lunedì E sono ricorrenti Poi Ad esempio Nella mia agenda Io ho Durante la settimana Quattro Cinque chiamate Alcune di un quarto d'ora Altre di trenta minuti Ricorrenti La mia abitudine Piuttosto è Invece che puoi trovare Il momento Tu quando sei libero Quando non sei libero E via dicendo E averla in calendario Però Tantissime volte Un messaggio Poco prima Abbiamo qualcosa Di rilevante da dire Cioè Qual è l'ordine del giorno Non c'è Non ci sentiamo Però se posso Certo Dirselo cinque minuti prima Quasi diventa sgarbato Non proprio cinque minuti prima Di solito Se una chiamata è alle tre Entro l'una Ce lo diciamo Per intenderci Se io Quando avevo I one to one Con le persone Per me Se abbiamo Il martedì Alle dieci Quella riunione Entro il lunedì Alle dieci Devono essere compilate Da ambo le persone I topic Già non Voglio parlare Del mio aumento O voglio parlare Di quel progetto Ma voglio parlare Di quel progetto In questo Per questo Questo contesto Dove vorrei Prendere questa decisione Perché Perché tu Ventiquattro ore prima Metti Magari nel mente Dici scusami Però quella cosa lì Dammi quel dato Anche perché Se no ti trovi E parli del nulla Invece arrivi e fai Se ventiquattro ore prima Non c'è niente Io cancellavo il meeting Perché magari Non avevo neanche niente Da dire Non c'è niente All'altra parte Ciao I ventiquattro ore prima Tu quel tempo Lo usi Lo puoi riallocare In modo efficiente E non che ti trovi All'ultimo Molto interessante Proverò ad applicare Ti farò sapere Ci sono delle O meglio ci sono Ci saranno sicuramente Ma chi sono le figure Imprenditoriali Che t'hanno Che t'hanno ispirato O diciamo Dei mentori Che magari consigli Di studiare Approfondire A chi sta facendo Impresa oggi Vuole iniziare Guarda in realtà Credo che ci sono Io non ho mai Ci sono quelli che dicono Ah io avevo In Giovanni Rossi La mia super Non ho mai avuto Una persona di quel tipo Ci sono tre cose Che a me hanno aiutato Tanto Il primo È stato Leggere tanto Biografie E ho manuali Ce ne sono alcune Famosissime L'ultima coletto Che però devo dirvi Secondo me Per un imprenditore Veramente bella È quella ultima Di Elon Musk Perché ti fa vedere Tutti i lati negativi Del fare l'imprenditore In co I classici Steve Jobs In co Però manuali Come The Sea Within The Hard Things About Hard Things Cioè ce ne sono tanti Secondo me Molto belli Molto concreti Che ti aiutano A capire contesti diversi Il secondo È La community Di altri founder Frequentare Altre persone A stadi simili Che un cui Ti puoi confrontare Con cui migliori Quello è la cosa Che dà di più Con Paolo De Nadai Con tanti amici Marco De Rossi Di WeSchool Con tantissime persone Cerchiamo di vederci Alcuni abbiamo fatto Del weekend Anche tutti insieme Con magari 20-30 amici Imprenditori Dello stesso stadio O semplicemente Delle cene Delle cose E ci confrontiamo Sui problemi Perché tanto Che tu faccia Education Che tu faccia viaggi Che tu faccia Alcuni problemi Sono identici Sono comuni Identici L'hiring è quello L'amministrazione è quella Il finance è quello Magari non ti possa aiutare A fare la custom acquisition Perché è un business Totalmente diverso Ma non è lì Che fai la differenza In un business Terza cosa Pensare Che in ogni stadio Ti servono Dei coach Non tanto il coach Che ha il diploma Di coach Ma delle persone Che ti possano aiutare A fare dei tuoi Passaggi individuali Di crescita Io se penso Alla storia Talent Garden In ogni fase Avevo delle persone Senior Che avevano magari Fatto i manager In azienda Gli imprenditori Che mi aiutavano All'inizio era Gianfausto Ferrari Che era il mio co-founder Molto però più Diciamo Di una età più avanzata La mia Che aveva già fatto Impresa Mi aiutava a capire Come si faceva Impresa Poi magari Era uno Che era una persona Un manager Super experience Molto orizzontale Che mi aiutava Sul business planning Sua gestione Le persone Su cose E queste persone qua Come le coinvolgevi Le coinvolgevi Come consulenti Un mix Nel senso Magari ti inventi Del portarlo a bordo Nel board Poi magari Gli dai qualche stock option O gli dai cose Normalmente Non è persone Che lo fanno in sé Per il vantaggio economico Perché O fanno quello Per lavoro I coach Però il coach Secondo me ha un ruolo diverso Questo è proprio Un super expert Che ti aiuta A ragionare Perché magari L'ha già fatto Anche se contesti diversi Non è una persona Per dieci anni Io se penso A mia storia Sono state almeno cinque Ogni anno Un anno e mezzo Due In qualche modo Capivi che avevi Dei bisogni diversi Queste tre cose Mi hanno aiutato Libri Tanto Community di imprenditori E coach Sono stati tre topic Che devo dire Secondo me ti aiutano Di più Qualsiasi sia il tuo lavoro E tu Al marketer's world Mi hai raccontato Che ogni anno Scegli un tema Per la tua formazione E poi dopo Vai a farti Un seminario Una settimana Due giorni Quello che c'è Riguardo quella formazione E gli ho detto Cacchio figata Quest'anno ti occuperai Di leadership In particolare Mi sembra Per la gestione Delle imprese Poi mi sono chiesto Ma come scegli Il tema E dire È davvero questo Il tema Che mi serve Quest'anno Guardi Poi certo Mi hai raccontato Che hai i tuoi OKR Personali Immagino che sei Molto schematico Però No ma in realtà Il tema Che io non sono schematico Ah ok Ci sono quelli Che io adoro Che sono schematici Per natura Io so di non essere schematico Quindi mi obbligo ad esserlo E quindi mi obbligo a dire Mi sono messo Al giorno del compleanno Dei 20 Ai 25 Poi ai 30 A fare il piano A 10 anni A 30 anni Cosa voglio essere arrivato A 40 anni Professionalmente Lavorativamente A livello fisico A livello di amicizia Su questa cosa C'era un Diciamo Objective Che è un elemento Che in realtà È un po' L'obiettivo Overall E poi c'erano I key results Quelli erano le cose Misurabili Che voleva fare Questa cosa A 10 anni Poi si configura Che ogni anno Io a dicembre L'ho appena fatto Mi metto Rifletto Guardo Quelli che sono gli obiettivi Dell'anno Quelli che sono gli obiettivi A 10 anni E cerco di capire Che cosa ho raggiunto E che cosa non ho raggiunto Di quell'anno E cerco di capire Nella logica di arrivare là Che cosa mi serve Su quell'anno E questa cosa Poi la declino Ogni quarter E poi cerco di farlo Una volta al mese Una volta al mese Qua ti obblighi un po' meno Qua mi obblighi un po' meno E cerco però di costruire Questa roba qua A me aiuta tantissimo Perché anche se perdo di vista Nel breve tante cose Che magari dovrei fare Cavolo ogni mese Ogni due mesi Rimettesti lì E rileggerli Perché se no è come il Voglio perdere quest'anno 10 chili Va bene Ti metti però così E poi invece Una volta al mese La riguardi Però al petta Questa settimana Non l'ho fatta È molto più facile Migliorare Con tanti piccoli miglioramenti Che con un grande cambio Quindi secondo me Quella roba lì Ti aiuta poi A costruire la tua formazione Formazione che per me È un elemento fondamentale Ogni anno E che dico Se voglio raggiungere Quella roba Cosa è che mi manca Quali sono le mie lacune Perché quest'anno Ho raggiunto determinati obiettivi Perché mi mancavano queste cose Quindi l'anno dopo Provo a inserirmene A dire Aggiungo quella cosa Quest'anno per esempio È un tema chiave Che tanti anni Ho investito Sul tema Della leadership Del stile persone Però quest'anno Mi rendo conto Che tra 4 anni Che non avendo più riporti Adesso avendo un CEO Non ci ho più lavorato Su quel tema Ma mi rendo conto Che a prescendere Che ci sia un CEO o meno È un tema chiave Qualsiasi imprenditore Qualsiasi manager Nella sua crescita E quindi Ho deciso di farlo Ho deciso di farlo In una nostra scuola Perché credo che abbiamo Un corso veramente figo Su questo E quindi vado a Stoccolma A fare questo percorso Un anno scorso È stato al Financial Times Un anno è stato a Stanford Ogni anno cerco di prendere Cose breve e concrete Non cose da un anno Certo Se no poi dopo Non riesci a starci dietro Però fondamentale Per fare Però poi devi affiancarlo A tante cose quotidiane Quindi quella stessa cosa lì Per me è Leggere ogni anno Almeno 10 libri Non sono un lettore Però mi obbligo A cercare di avere Almeno 10 libri Perché mi aiuta A costruire E imparare cose nuove Cioè è come avere Dei altri coach Vicino a te Trovati all'interno Dei libri Leggi quindi libri Molto legati Al business Alla tua crescita Niente al di fuori Tipo romanzi o altro Sono pessimo Ok no Non ti piace No in realtà Per sé mi piacerebbero Infatti tipo le biografie Me le mangio nel doppio del tempo Anche perché Quando ti cominci a leggere i manuali Leggi una pagina E pensi per due ore Sì Rimango Io The Great Sea Weaving Ci ho messo mesi E lo stavo leggendo con Dario Tutti e due lo stavano leggendo E ogni tanto dicevo Oh zì ma A che punto sei arrivato No sono ancora il secondo capito Il mio al terzo Però è lungo Perché poi dopo Cioè ogni volta leggevo E poi dopo prendevo Ok aspetta prendiamo il computer Iniziamo a scrivere Facciamo Però alla fine È quello che poi ti porta A quello che dicevi È studiare anche quello E infatti tu hai scritto un libro Che parla proprio di Sapere è potere Guarda La cosa bella è stata Un libro un po' divertente Nel senso che da una parte Tutti i giorni Diciamo parlando con i nostri studenti Sia i più giovani Sia i manager Tutti i giorni Ti dicono Ah ma come fare Ma come Cos'è che posso fare di più Cos'è che posso crescere E tu vedi che a prescindere dal percorso Che loro vengono a fare UX Che vengono a fare digital marketing Che vengono a fare percorsi di leadership A prescindere dal corso che fanno Alla fine tutti cercano Anche un po' nella formazione Un modo per realizzarsi Un modo per trovare la propria strada Perché nessuno di noi sa Qual è la propria strada Ok Diciamo che la scuola Non ci aiuta troppo Nel capire qual è Ci allontana da questo E quindi il problema Che ognuno abbiamo Tutti noi abbiamo un po' questa domanda E dall'altra Un'estate Ho trovato questa persona Che è padre Ubaldo Cortoni Che è un monaco Eremita Lui Famiglia romana Super benestante In un certo punto Dice A 18 anni Io lascio tutto Lascio Roma Feste Cose E vado nell'eremo di Camaldoli In Toscana E in realtà Le persone Vanno in un eremo Per lo stesso obiettivo Per cui vengono a fare formazione Per cercare di trovare La propria strada E allora ci siamo messi lì E abbiamo detto Ok ma quali sono i consigli Che tu dai E quelli che io davo E cercando di metterci insieme Ci si è resi conto Che lui lo faceva Dicendo Aristotele faceva questo Come farsi le domande giuste Newton vedeva la mela Cadele e cade Io lo faccio Pensando a Steve Jobs Elon Musk Mark Zuckerberg Ma alla fine Il tema sono sempre gli stessi Quindi abbiamo costruito Questa cosa carina Di un libro In cui nove capitoli Prendendo quella che Se vuoi un po' L'esperienza che in Talengando Proviamo a dare Anche nell'orientamento Proviamo ad aiutare le persone A trovare la propria strada Dicendo La prima cosa a fare È farsi le domande giuste O trovare persone che te le fanno Poi c'è il tema del viaggio Perché viaggiare È quello che ti apre la mente Che ti permette di conoscere Leggere Imparare Il fatto che la nostra mente È una cosa che assorbe Ci abbiamo provato Ad affrontare un po' di temi In modo super easy Non è un libro Diciamo per tecnici È un libro veramente Per chi dice Voglio capire Un pochino meglio Come trovare la mia strada E La nostra risposta È per farlo Ti servono due cose Uno Pensare che oggi La tecnologia abilita Determinate cose Ti abilita a un nuovo modo Di vivere Di lavorare Il secondo Che però tutto parte da te stesso Non è qualcuno Che ti deve dare un lavoro Ma a prescindere Che tu Voglia lavorare in un'azienda Voglia fartene una tua È fondamentale Investire su te stesso Sul tuo sapere Questa cosa qua È quello che ti dice Davvero Aristotele Ma te lo dice uguale Elon Musk E lì Nel pay off del libro Nel sottotitolo del libro C'è Da Aristotele Accia GPT E quindi Ultimo tema che tocchiamo È Intelligenza artificiale Cioè È entrata nella tua Quotidianità La usi Non la usi Cosa ne fai? Pazzesca Guarda Io mi sono Ancora All'inizio dell'anno scorso Obbligato A togliere Google E mettere Accia GPT Come home page Ognuno apre il browser E cazzo Quella roba lì Cosa ti porta? Che tu normalmente Sei abitato a usare Google Pensa a qualsiasi cosa Questa roba qua Ti porta a dover cambiare Il tuo modo di pensare Perché non puoi dire Una cosa Soprattutto adesso Perché poi Chiaramente è una piattaforma Che si è evoluta Adesso che ti dà accesso Alle risorse web Eccetera eccetera È pazzesca Dalle mail Il 50% Mi aiuta a scriverle Documentico Cioè Qualsiasi cosa devo fare Io lo utilizzo E secondo me Proprio mi ha cambiato Il modo di lavorare Io per esempio Ho un inglese scritto Pessimo Non che quello Diciamo Cosa sia particolarmente buono Però quell'altro Pare particolarmente terribile Oggi scrivo mail È incredibile Ma per fare cose anche diverse Ero in vacanza Qualche settimana fa Dovevo fare Chiedere un Early refund Perché andavamo via prima Era la classica cosa In cui ci hanno detto Di no al reception E in co Ho scritto una mail Con Cia GPT Indicandogli Come volevo Che tono Che obiettivo E in co Ragazzi Meno di 24 ore dopo Hai una capacità Di semplificarti Anche su cose di questo tipo Scrive una recensione Per un ristorante buono In cui vai lasciare Un buon feedback Poi scrivere Buono E poi ti stufi La festiva Cia GPT Ce l'ho sia da mobile Che da web Come home page Adesso c'è una domanda Ci parli Vocalmente Con l'applicazione No Mi dispiace Mi dispiace Era un tema In questi giorni No Però io ho detto tutto Quindi alla fine È parziale Sì Vabbè Questo Questo è un pareggio Comunque Utilizzi solo Cia GPT O l'intelligenza Artificiale In altre sfaccettature Ho provato un po' Bird E devo dirvi Su alcune cose Funziona meglio Ma anche Nel senso Un giorno stavamo facendo Come facciamo A costruire un sistema Di ranking Della community Di Talent Garden Cioè come facciamo A capire Come Se far entrare O meno Determinata azienda Startup Nella nostra community E quali possano essere I criteri per farli Costruendo un algoritmo Che sono quelle cose In cui dice Ok adesso ci metto Prendo il weekend Provo un po' A mettere giù Un po' di idee Poi faccio tre riunioni E in co Alla fine ho provato A costruire Mezz'ora Lo script Di che cosa serviva Chi eravamo noi Come poteva essere fatto In co Ragazzi mi ha creato Uno scoring Che io l'ho passato Al nostro team E hanno costruito Un algoritmo Che non è che Figuratevi Cambia il mondo Però come base di partenza Funzionante Era molto più intelligente Di quello che potevo Tirare fuori io Fantastico E questo l'hai fatto Con quale tool? Questo alla fine Per esempio Ho provato C'ha GPT Non mi hai tirato A fare una cosa ottima Bird mi hai tirato A fare una cosa migliore Ok Al di là dei tool Che comunque si evolvono A velocità L'impatto Che avrà sul mondo Sulle aziende Sull'essere umano L'intelligenza artificiale Abbiamo parlato Per gli ultimi dieci anni Di trasformazione digitale Forse venti L'AI Secondo me Avrà lo stesso impatto Ma in cinque Quindi sarà molto Ma molto più veloce Lo sarà solo Almeno per ora Nel mondo software O comunque Nel mondo dei servizi Mia moglie Fa produzione di cibo La robotica Indietro anni luce Ci arriveremo Vedremo i nuovi robot Di Tesla Che sta sviluppando Sono particolarmente Interessanti Ieri vedevo uno Che riusciva A stendere il bucato Cazzo Cosa tipo 200 mila dollari Per ora ancora Stenderò il bucato Però Prima o poi qualcuno Invece dobbiamo pensare Che uno Non esiste un AI Ma esistono varie AI Oggi abbiamo tool Super orizzontali Che fanno un po' tutto La verità è che Arriveremo a avere cose Molto verticali Con database E dataset Molto più ampi Su quei singoli verticali Che dobbiamo fare Una trasformazione Culturale enorme Perché le persone Comunque non sanno Da dove utilizzarlo Perché scrivere Su Gpt Mi scrive una mail Chiaramente non basta È un pochino Più avanzato la cosa Però voi non usate Io Noi usiamo Notion Come asset aziendale Quindi abbiamo Tantissimi Comunque lo utilizziamo Per determinate cose Ad esempio Anche per la gestione Del podcast Provate a usare Notion AI Cioè se tu hai Tanto storico sopra E gli dici Per esempio Non so Costruiscimi quel documento Di proposta Per quel cliente Se vuoi tutte le proposte Per quel cliente Già caricate Tutti gli altri Ragazzi Una qualità media Impressionante Impressionante Se tu scrivi Su Gpt Da zero E gli dici Scrivimi una proposta Di come fare Una campagna marca Di un cliente Ti fa una schifezza Questo è chiaro Perché parte da Questioni troppo generiche Non va nello specifico Di quello potresti avere Tu nei tuoi asset Parti dal dargli Tutte le tue proposte Negli ultimi 5 anni In co Ti migliora E lo fa molto meglio di te Eh sì Abbiamo fatto di recente Diversi esperimenti Lato marketing Su questa cosa Unendo due cose Sia i brief Delle campagne Che poi hanno reso meglio Sia prendendo I feedback Post acquisto Dei clienti Ed effettivamente Quello che ne viene fuori Ancora Per quel che mi riguarda Ha bisogno di una Grossa Di un grosso Intervento umano Perché poi sia Però Effettivamente Snellisce il processo In una maniera Incredibile Quindi Sono sempre Sono davvero entusiasta All'intelligenza artificiale Da quando è arrivata Cerco di dedicare Purtroppo Non ogni giorno Ma diciamo Ogni settimana Del tempo Per approfondire Vari temi E sinceramente Non vedo l'ora Di vedere cosa c'è dopo Perché già oggi Sul nostro lavoro Ha avuto un impatto Gigantesco Preoccupante Perché dall'altra Su un team marketing Potresti assumere Il 50% Le persone in meno Ah sì O essere il 50% Più produttivo Oppure Come è sempre successo Se vendi Bottiglie di plastica Il numero di bottiglie di plastica Che comunque puoi vendere È quello Quindi è un certo punto La tua produttività Chiaro Chiaro Però Io credo tanto Nell'evoluzione Anche di quello che facciamo E quindi sì È possibile Che domani Avrò bisogno Di un copy in meno Di un advertiser in meno Comunque di una persona All'interno del team marketing In meno Però se quella persona Magari sfrutta La stessa intelligenza artificiale Per inventarsi Un nuovo lavoro Allora Sì È preoccupante Nel senso Che ci sarà Quel terremoto E quindi poi L'assestamento Vero Però sinceramente Io non ho paura Che so Di una perdita Di posti di lavoro In maniera sensibile Immediata Ecco Magari mi sbaglio Secondo me il problema È che noi Siamo stati coloro Che hanno distrutto Posti di lavoro altrui Ok Ma hanno creato Una nuova economia Oggi Quelli che sono più Sottoposti A questa trasformazione Siamo noi Che abbiamo costruito Questo Perché la disruption Non avviene Su mia moglie Che fa gli involtini Perché gli involtini Produce ancora come ieri Ma avviene Come fai un corso Di formazione Certo Quindi il tema È che L'upskilling Di noi Professori in sale digitale È tre volte più importante Di uno tradizionale Perché comunque Prima che entri In una grande banca Ci vuole ancora un po' Prima che entri In un'agenzia di marketing Ci vogliono cinque minuti È successo È già avvenuto E quindi L'investimento su noi stessi Diventa ancora più importante In questo momento E noi che ci sentiamo I privilegiati Del noi sappiamo Noi abbiamo le risposte Gli sviluppatori A fianco Sono quelli Di cui ne abbiamo più bisogno Come tag Noi stiamo evolvendo Tutto il nostro catalogo formativo Verso le AI Perché qualsiasi lavoro Tanto deve avere Le AI integrate Sì sì È impossibile ormai Immaginare Qualsiasi cosa Nel nostro settore Che Senza le AI L'airing Quanto può essere impattato Cazzo Stiamo guardando Un investimento Con questo progetto Di un fondo Che abbiamo Airing con AI Leggere le espressioni vocali Adesso l'Unione Europea Ne sta parzialmente Bloccando alcuni pezzi Ma comunque Tu puoi fare Un impatto Incredibile Lo puoi fare Nella definizione Gli obiettivi Pensi di postarti Gli occhiare aziendali Facciandotelo fare A CiaGPT Certo No no Hai sicuramente Dei vantaggi incredibili Voglio chiudere su qua Però poi hai parlato Di Notion Voi usate Notion Come sistema Sia per le task Che tutto All'interno di Talent Garden Noi usiamo Slack e Notion Come due tool Di base Uno fa più da repository E da Tool Diciamo Di to do Molto anche Proprio di lavoro Quindi imposti documenti Le cose E poi Slack Come messaggistica E tutto Chiaramente abbiamo ancora Diciamo Molta roba Su Google Drive Che però è quella Che stiamo cercando Di spostare Di automatizzare Più possibile Dentro Notion Anche perché È quella Dove puoi Costruire Più replicabilità Ok Avete scelto Notion Per La Per la Versatilità E la possibilità Di costruirlo Come volevate voi O per cosa Sì perché La dico brutta Era un Wikipedia Più smart Ok Modello Di base E secondo me Con l'aggiunta Dell'AI È una delle piattaforme Oggi più interessanti Io lo trovo Macchinoso Sulla parte di task Cioè lo trovo Ottimo Come repository Database E tutto Ma se Organizzazione Delle task Tra una persona L'altra E tutto Mi sembra ancora Un po' macchinoso Tantissimo Però dipende Se riesci ad evolvere I task In veri e propri obiettivi Ok Allora li diventa Molto più Figo Davide È stato davvero Una figata È sempre un piacere Parlare con te Dai sempre un sacco Di spunti interessanti E sono sicuro Che un sacco di gente Ma in primis noi Te abbiamo trovato Un sacco di beneficio Quindi grazie È stato con noi Grazie mille Vi aspetto In Talent Garden Quanto volete Volentieri Grazie mille Ciao a tutti Ci vediamo giovedì Ciao amici A giovedì Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti